Salvatore Parolisi potrebbe lasciare il carcere militare. A distanza di due mesi dalla sentenza definitiva della Cassazione che, rigettando il ricorso dei legali del caporal maggiore, ne ha confermato la condanna a 20 anni di reclusione per l'omicidio della moglie Melania Rea, si torna a parlare di uno dei casi più discussi degli ultimi anni. La prossima pagina che potrebbe essere scritta su questa vicenda è legata alla richiesta del sostituto procuratore generale di Perugia Giancarlo Costagliola di applicare nei confronti di Parolisi la pena accessoria della degradazione del militare dall'esercito. Tra le conseguenze principali ci sarebbe l'uscita dal carcere militare di Santa Maria Capovetere, dove il caporal maggiore è attualmente rinchiuso dopo un periodo trascorso nella casa circondariale di Castrogno. Se ne riparerà il prossimo 28 settembre. Accanto alla parte più fredda e tecnica della richiesta di un magistrato c'è poi il fronte più umano, come la lettera che nei giorni scorsi il papà di Melania, Gennaro Rea, ha scritto al ministro della difesa Roberta Pinotti, lettera pubblicata sul Fatto Quotidiano. Un militare condannato per omicidio in via definitiva scrive, non crediamo possa ancora mantenere lo status di militare e il reato commesso non ha nulla a che vedere con i reati militari. Vi prego di provvedere al più presto a far scontare la misera pena di Parolisi al confronto dell'ergastolo del mio dolore presso un normale carcere con i delinquenti e gli assassini comuni. Una vicenda lunga che ha visto il caporal maggiore condannato dall'ergastolo del primo grado con rito abbreviato fino alla sentenza definitiva della Cassazione a 20 anni di reclusione dopo l'eliminazione dell'aggravante della crudeltà. Ma se da una parte si dovrà discutere tra più di un mese sulla pena accessoria della degradazione, dall'altro i legali di Parolisi, biscotti gentile e ben guardato, sono al lavoro per preparare un ricorso alla Corte Europea di Strasburgo per stabilire se il loro assistito abbia subito o no un giusto processo.